Italfodere è nella nuova sede di via Scavate Case Rosse 35 a Salerno, nei pressi del bowling di Ponte Cagnano. 089 40 62 28. Info chiocciola italfodere.it Per l'incontro Gelbison-Cavese ci sarà grande seguito di pubblico al Giovanni Morra di Vallo della Lucania, nella gara più attesa della D, che si giocherà domani pomeriggio con inizio alle ore 14 e 30. Già praticamente polverizzati i biglietti a disposizione dei tifosi della Cavese per accedere in tribuna, ben 490, e molto numerosi saranno anche i sostenitori rosso-blu, che stanno vivendo un inizio di stagione da sogno. I metelliani, dopo la versa, saranno la seconda formazione di alta classifica a giungere a Vallo per affrontare i cilentani, però il Gelbison è comunque da rispettare, perché dall'inizio di questo campionato sta dominando, ha vinto le ultime cinque gare che ha giocato e due di queste le ha vinte a La Mezzia e a Paternò. Per la Cavese, gara delicata, perché sarà importantissimo vincerla, fondamentale non perderla, e c'è chi ritiene che proprio la sfida col Gelbison sarà determinante per le ambizioni di successo dei bianco-blu al pari del match di La Mezzia-Terme, in programma il 5 dicembre prossimo, e di quello sul campo della Cireale, che si avrà a gennaio. Un successo del Gelbison domani terrebbe la Cavese più staccata. Mancherebbero ancora 26 gare alla fine, ma un risultato negativo per la formazione aquilotta renderebbe molto complicata la sua rincorsa alla promozione in C. Sentiamo Giuseppe Ferazzoli, un ex, nella scorsa stagione alla guida del Gelbison, ma quest'anno in sella alla Cavese. Al di là delle schermaglie e di quello che si dice, tutte e due le squadre vogliono, hanno una voglia matta di vincere la partita, però è normale che non si andrà allo sbaraglio, metteremo in campo tutte quelle che sono le nostre energie, ma faremo di tutto per prendere i tre punti, e alla fine se non ci riusciremo non dobbiamo perdere. Abbiamo saputo che vengono 500 persone a vederci, abbiamo cinque punti di distanza dalla Gelbison e un punto dalla Vigorla Mezzia, quindi questi sono i motivi che a noi ci caricano. La probabile formazione della Cavese per domani. Anatrella, Potenza e Fissore, Damore, De Caro e Viscomi, Cazzeris, D'Angelo, Diaz, Allegretti e Palma. Meteliani senza Kosovan e senza Majorano squalificati. Indisponibile anche Conè, recuperati almeno per la panchina, Altobello e Carbonaro. Probabile risposta del Gelbison allenato da Gianluca Esposito, D'Agostino, Barbetta e Chinnici, Cardore, Lagamba e Gonzales, Oggiano, Uliano, Corrado, Gagliardi e Fois. La classifica vede il Gelbison primo a 29 punti, la Cavese, sua avversaria domani, ha invece 24 punti. Tra le due in classifica c'è solo il Lamezia, secondo a quota 25, e impegnato domenica in casa con la Versa. L'arbitro di Gelbison Cavese sarà il signor Migliorini di Verona, i suoi assistenti abbinante di Bari e fedele di Lecce. Gelbison Cavese domani inizierà alle 14.30 e potrà essere seguita in diretta sulla nostra emittente, con collegamento che partirà dalle 13.50.